Allora, gli scrittori che decidono di occuparsi del potere, di raccontarlo, di criticarlo, di analizzarlo, diventano pericolosi perché dicono ciò che i poteri non vogliono ascoltare. Ma non lo dicono semplicemente, lo dicono in una dimensione temporale più grande che un tweet, più grande che l'immediatezza, danno tempo al racconto della critica e questo mette molto paura perché chi legge si può convincere, mentre chi legge qualcosa di istantaneo, immediato, concorda o non concorda, poi passa altrove e avanti. Processare uno scrittore significa minacciare tutti gli altri e spingere la scrittura a essere come liofilizzata, cioè la realtà me la puoi raccontare, la puoi divulgare, devi essere pacato, sereno, non devi toccare mai i temi cruciali, insomma devi essere inclusivo, che è una bellissima parola, ma in questo caso significa non far arrabbiare nessuno. E questa è la morte stessa del pensiero. Quindi uno scrittore che racconta, uno scrittore che cerca di convincere, uno scrittore che smonta i complotti, che affronta il populismo, è una risorsa perché permette di dare al lettore gli strumenti per farsi il suo pensiero e quindi di smontare la propaganda.